Il trappolone gigante che si sta preparando è quello del digital wallet, cioè il portafoglio digitale. Lì dentro c'è tutto. Riuscire a convincere la gente a mettere tutto nel telefonino, perché? Perché sul telefonino sei ricattabile. Non vuoi accettare il portafoglio digitale? Ti tolgo la simcard. Quindi ti tolgo la simcard cosa vuol dire? Che non puoi più fare una telefonata, non puoi più accedere al tuo conto bancario, non puoi fare più niente. Quindi nel momento in cui noi accettiamo di mettere la nostra vita qua dentro, diventiamo ricattabili perché c'è qualcuno dietro che ci toglie quel telefonino. È una cosa talmente semplice che io ripeto, se succederà, se saremo tutti così fessi da farci fregare questa roba, veramente merita l'umanità di scomparire. Metti tutto lì dentro, stai tranquillo, tanto controllo io, ho il bottone. Ma tu sei scemo. Ma chiunque dovrebbe arrivarci, eppure vedrete che ci riusciranno. Central Banking Digital Currency, cioè i soldi della banca centrale elettronici, che non saranno più soldi praticamente, ma sono dei buoni a spendere che scadono. La moneta digitale della banca centrale sarà a scadenza, quindi ti impediscono di risparmiare. Il perfetto strumento di schiavitù. Il strappo... Il strappo... Il strappo...